Pronto? Sì, pronto? Sì, eccoci. Pronto? Puoi parlare, sì, puoi parlare. Sì, sì. Salve, sono Michele Dattigiani. Ciao Michele, ciao. Volevo approfittare un minutino della presenza dell'ex sindaco. Sì. Quanto vi dà fastidio sentire quando si intervistano le attuali istituzioni, dire ci sono altre cose più importanti del ciclo sport. Per me non è giusto, perché lo sport porta soldi e porta tanto lavoro e tanta economia. Se veniva preso più in considerazione sarebbe stata una cosa più ideale. Grazie. Anche perché io sono dell'idea che non è perché non ti occupi dello sport o del Bari che risolvi gli altri problemi. Si dice che abbiamo altre priorità, per carità. Obiettivamente bisogna dire che lo sport non è solo il calcio e non è solo il Bari, cioè l'interesse del pubblico deve essere alla gamma dello sport per quello che lo sport significa. E quindi ha ragione il telespettatore che lo sport è una componente non soltanto economica, ma è una componente essenziale per la crescita, partendo dai piccoli fino alle persone di una certa età, per quello che significa sotto l'aspetto etico della salute, dello stare insieme, del divertirsi. Ma l'ha detto anche la proiezione di una città nel resto d'Italia. Però certamente il comparto del calcio io lo guarderei non soltanto sotto l'aspetto sportivo, ma anche sotto l'aspetto economico e di marketing. Ma onorevole, lei che comunque ha avuto quel ruolo, il sindaco Emiliano qualche anno fa parlò di russi che potevano avvicinarsi a Bari, che era una cosa del genere. Noi l'avevamo sempre come favola, tante che ci siamo incantati, di fronte a un pseudo magnate come Tim Burton, la gente è andata addirittura ad invadere la pista d'atterraggio all'aeroporto, perché pensava fosse arrivato lo zio d'America, che avrebbe risolto i problemi del Bari. Lei crede che una squadra come la nostra possa attrarre, quindi la città possa attrarre un grosso investitore internazionale? Guardi, io conoscendo anche abbastanza bene il mondo russo, l'esplosione sovietica e quello che significa, io penso che sono più interessati al Celsi che al Bari, cioè come dimensione. Cioè se c'è qualcosa da fare, i russi lo fanno ai massimi livelli. E quindi stiamo parlando di fortune vere e proprie. E quindi ricapisce bene che, ecco, dovrebbero individuare Bari per quello che San Nicola significa. Allora la componente non è più solo sportiva, ma è anche religiosa. È religiosa. Però credo che unire le due componenti sia abbastanza difficile. Per chiudere, Gigi, Juve Stabia a Bari, noi parliamo sempre comunque della partita della prossima partita. Io visto che la Juve Stabia per me è una delle squadre che giocava il miglior calcio della Serie B. Sabato ha perso male. Col Torino ha perso male, ha tenuto bene. È una squadra che poi c'è anche un altro grosso vantaggio. Gioca sul campo sintetico e noi non siamo abituati a giocare sul sintetico. È una partita, però io sono ottimista. Dovrebbero allenarsi sui campi di calcetto che stanno in ritorni. Io sono ottimista perché il Bari gioca molto meglio fuori che in casa. Allora, per questo proposito c'è un bellissimo campo che credo è stato inaugurato qualche giorno fa, a Iapigia, venuta la squadra dei parlamentari, dei colleghi parlamentari. A San Girolamo. A San Girolamo. A San Girolamo, sì. Quindi il Bari potrebbe andare in questa settimana a Dalena Sina, infatti. A Franceschini Capocasare. Capocasare, va bene. Quindi il Bari, ecco, facciamolo. Diciamo che almeno una partita la vadano a giocare. Olorevole, lei è stata sempre molto realista, però davvero fate uno sforzo, l'appello che sto lanciando a chiunque venga su questa serie lunedì. Fate uno sforzo anche, non dico di fantasia, perché qui non ci vuole fantasia, ma ci vuole concretezza, ci vuole danaro. Ma davvero mettetecela tutta per trovare una soluzione, perché è inverosimile che il Bari, come diceva quell'amico di 75 anni, che il Bari fallisca, che il Bari sparisca, che il Bari non ci sia più a certi livelli. Quindi davvero mi affido anche alla sua capacità di trovare contatti, perché insomma, ex sindaco parlamentare. Ma io per la verità l'ho fatto in un periodo. Imprenditore. Cazzaniga era un suo amico. No, no, ma io parlo molto prima di Cazzaniga. Cazzaniga non è stato una mia... Una sua intuizione. No, no, il mio collegamento col Bari. Con Cazzaniga abbiamo fatto altre operazioni. Operazioni, sì. Per quello che riguarda, io fu interessato a Milano proprio da alcune persone, ma era il momento in cui Bari stava cedendo Cassano, quindi ecco quella che era l'individuazione e un imprenditore del Nord che già aveva una squadra di serie C e al Nord si era interessato al Bari fu spaventato dalle richieste dei Mataresi. Ma in quel momento i Mataresi non avevano nessuna intenzione di uscire dal calcio. C'era l'assegno circolare a nome Antonio Cassan di 60 milioni che spaventava. 60 miliardi. Che squadra aveva questo imprenditore se lo ricorda? Eh no, non me lo ricordo. Va beh, va beh. Grazie onorevole signore Cagnabrescia, grazie a Gigi Fresini. Per chi ci segue in diretta fra poco un altro politico eccellente della nostra città perché abbiamo uno spazio riservato al Presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli. Buon prossimo giornata. Ciao. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.